Altra tappa tra i corridoi dell'Host 2011 e abbiamo incontrato il presidente dell'EVA, Arnaud van Amerungen, che salutiamo. Buongiorno, buongiorno Arnaud. Buongiorno. Che non parla italiano, parla un ottimo inglese. Noi come al solito chiederemo in italiano per quale motivo è qui all'Host 2011, allo stand dell'Equator e naturalmente leggerete attraverso i sottotitoli in italiano la sua risposta che sarà in lingua inglese. Allora, per quale motivo lei è qui Arnaud, per quale motivo l'ha spinta a essere qui a Host 2011? Grazie. We are proud to be at Host, because Equator is a company from 1933, it's nearly 80 years old, and we have our roots in the restaurant machines. We have also diversified into vending machines, so we only do two shows, there's a U-Vend in Cologne and a Host in Milano. In Milano all our customers from the old days are coming, from all over the world, and here is where we launch the machines for the restaurant market. And at U-Vend we launched the machines that are more for the vending market, but of course we show both machines on the stand. And we are very pleased to be here today and for this show, because we have had a very exciting project this year. We launched a mini coffee shop, a self-service coffee shop for Shell UK this year. It's a machine where the consumer will take its own coffee and have a coffee-to-go solution, fresh beans, fresh milk, everything fresh. And it's sort of in between the vending and the restaurant market, you can look at it either way. And we think that is where the trend is, that people like real good coffee, they want to indulge themselves with like the Starbucks feeling and Costa feeling. And if they are on the way, if they are driving, then it's nice if they can indulge themselves with a really good coffee. And they're willing to pay a very good price for it as well, if the quality is fine. So I would like to show you that machine in a little bit, because we launched it here at this show. Molto volentieri, andiamo a vederle queste macchine. Anzitutto cominciamo con una macchina che è presente nei distributori di benzina Shell britannici in ben 500 unità, che ora Arnaud ci mostrerà. Andiamo. E allora, questa è Coffee Republic 2Go. Arnaud, che cos'è questa macchina? This is a fully automatic machine for fresh milk coffee to go drinks. And the Coffee Republic brand is a coffee shop chain in the UK. It's like a Starbucks. And they have licensed the brand name to this machine, because the quality of the drinks from this machine is the same as the quality in the coffee shops. And Coffee Republic and us were looking for a one square meter coffee shop. And this is a one square meter coffee shop, because you can take a cup, you can place the cup in the machine. You can press the cappuccino, you will get fresh steamed milk, frothed milk, the espresso will come afterwards and then in 10 seconds or 15 seconds from now, you can take your coffee and you have the same quality as in a normal coffee shop. Where you would pay 3 or 4 euros for a drink like that and now you pay one and a half or maybe 2 euros from this kind of machine. And so the gas station is very happy with that because he will have a very good profit on this one square meter and the atmosphere is good because the consumer is really pleased with the quality that he is getting and everybody is really then benefiting from this. So I will get you the coffee and then here is the fresh cappuccino, you can take a lid with you, smells fresh, fresh milk, fresh espresso, espresso italiano. And then you can put the lid on, take it in your car and drive off and enjoy the coffee on the road. And that is what the gas station likes, they want you out of the shop as quickly as possible, of course. So this is what we are launching here today and this is our partner for the UK and in other countries we are going to partner with other coffee brands or coffee shop chains. That's what we are here for at this show to find new partners. And now let's see the other models. Here we have a model dedicated to the Nespresso, realising in a very innovative way, which I will show you. And now let's see the model of the Nespresso that we talked a little ago ago with Mr. Arnaud. Nespresso is a very successful pot concept like Lafazza and Illy have this concept. Nespresso was strong in the household market, in the retail market, but they want to go into the office market and the horeca market. And we are the partner for them for the office. So we are very proud of that because it's a very big company, professional company, and we manufacture the office solution. And let me present you what this world does all about. So the capsules are in these tubes. These tubes, you can either press a button and it's free from and out of the system, but this is on pay and you can use radio frequency identification. And then you see that the capsule is coming out. So this would be for the office if you have to pay for your drink. This is a solution that you then can charge the consumer for a drink. And you like the normal situation, put it in here, press a button and it will brew a nice cup, nice espresso. Then we have, let me get you a cup. Very good. These are intelligent base cabinets and dispenser units. So we have cups in the drawers, cup heaters, waste, sugars, sachets, nice wooden stirrers. Everything is, it's a completely integrated concept for the office. Payment, six types of flavors, decaffeinated coffee, espresso coffee, lungo, americano, all kinds of nice recipes for them. And this is, of course, for Equator, a very important project because this is giving us a distribution network throughout Nespresso worldwide, we sell this into 45 countries. So thank you for asking because we're really pleased that we are the business partner for the office market for Nespresso. E' certamente una bella soddisfazione per Mr. Arnaud riuscire a lavorare con tra i più grandi protagonisti del mondo nel settore del vending e del caffè. Nespresso ha scelto dunque la fabbrica Ecuador proprio per andare a produrre in partnership questo distributore. E' molto bello, è di nuova concezione e presto probabilmente lo vedremo anche sul mercato italiano. Ma io ho visto una cosa in questo stand che è particolarmente innovativa. Un po' per gli uffici, un po' per il settore oreca. Ed è una macchina che io considero praticamente multimediale. perché ha uno schermo sul suo lato superiore che mostra della comunicazione attraverso un monitor LCD a chi si avvicina. Andiamo a guardarla. E infine, come vi dicevamo, una macchina che è multimediale, da poter inserire non solo nelle sedi oreca, nei ristoranti, negli hotel, ma anche e soprattutto negli uffici. Vorremmo saperne di più, Arnù. E perché soprattutto c'è questo monitor LCD sulla sua facciata? No, questa è la prima macchina multimediale. La macchina è stata lanciata circa due e un po' anni fa e possiamo fare presentazioni, adverteciare, in film, in foto, in diverse presentazioni. E possiamo anche uploadare nuovi contenuti, quindi nuovi materiali di marketing, con usb stick o con una connessione wireless LAN, quindi con l'internet. e abbiamo già già iniziato la macchina. E la interfaccia di usare è anche molto utile per installare la macchina e per installare la macchina. Quindi, vi mostrerò ora a voi, quando la macchina è in operazione, la macchina si tratta, e poi, quando la macchina è andata, la adverteciare, come come vedete. Questo è, per esempio, una macchina che mostrerà la scena di sale adverteciare in una gas station, in una gas station di sale, come ho detto. e, per esempio, una macchina di sale adverteciare la macchina di sale adverteciare la macchina. e, per esempio, le canzioni di sale adverteciare la macchina per questa macchina per Castrol, perché se vuoi comprare i coppi di questa macchina, la macchina si tratta di fronte di la macchina per 30 secondi, e poi si guarda la scena. E questo ha un livello di media, perché, come si guarda la attenzione del consumatore? Se si guarda il cappuccino, si guarda il cappuccino, si guarda la macchina, e si guarda il commerciale. E questo ha un livello. e l'operatore può prendere questo livello. Quindi, io abrò la porta, e poi vi mostrerò che è molto facile di programare la macchina. Se io abrò e cercherò, io mi metto il operatore, abbiamo un operatore e un tecnico. Ora vi mostro, per esempio, che un sottore al compagno può cambiare la costruzione del cappuccino, or the coffee size let's say drink settings i hope you can see it very nicely let's take a look at latte macchiato i want if i want to change that then in the screen you can see exactly what the recipe is now and if i want to have a smaller cup or a larger cup or i say i think i need more coffee i go into the next menu of drink volume and then if i then change it you can see automatically how the recipe is changing and if you think this should be okay i can push the button test drink and if i like to drink you can save and then the whole setting is already changed so you don't need to send this a service technician it will save a lot of cost and the end user will be much more please because he can work very easily with the machine and take ownership of the machine insomma una macchina intelligente in tutti i sensi che riesce a dare dunque una grande fruibilità in termini di utilizzo che riesce a fare comunicazione anche magari pubblicitaria all'utente finale che resta davanti al distributore per non meno di 30 secondi una macchina che può essere programmata dal gestore in modo estremamente semplice too much easy probably yes and but we should not forget that the most important thing of a coffee machine is the coffee and we have very good restaurant components grinders pumps to have an excellent caffè espresso feriment italiano 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 arno noi ti ringraziamo ti ringraziamo sei stato davvero cortisissimo beh ti diamo appuntamento a un prossimo servizio magari nell'ambito di venditalia prossimamente se sarai presente e noi avremo gran piacere a poter seguire la azienda ecuador e le sue novità grazie per le spiegazioni molto dettagliate e fatte naturalmente con la tua simpatia ringraziamo gli amici di ben in tv thank you very much for listening to my stories and I hope you have a nice show that we run into each other at the various exhibitions grazie mille e noi ringraziamo te per il momento è tutto noi continuiamo durante il nostro percorso qui all'host 2011 fabio russo per bending tv.it milano